Ciao, saluti a tutti. Sono Caterina, mi saluto da Napoli e ora vorrei presentarvi un'azienda Skyward Community. Ancora che non mi conosce, io sono fatto un adatto civili con le qualifiche investore e leader della società Skyward Community. Sono mamma di tre bambini e di cui due sono studenti e abbastanza affermati che è una grande gioia per una mamma emigrata. Sono emigrata da tre anni e suolgo tutte le attività a distanza dal mio posto di lavoro. Ho esperienza di strutture e statali, 15 anni di esperienza nella comunicazione e nelle relazioni in ambito medico o anche 18 anni di gestione di imprese private ed esperienza imprenditoriale nel settore delle vendite e dei servizi. Allora, anche sono una specialista certificato di livello di lingua italiana A2. Avendo esperienza di comunicazione, mi ha aiutato a creare un gruppo dirigente nella community support che è sviluppato in Francia, Georgia, Polonia, Spagna, Italia, Germania e Israele. Con l'aiuto del mio team, in soli due anni, sono stati investiti oltre di 13 mila dollari. Ancora questo è un processo irreversibile, investimenti ancora stanno conosciuto. Tutto è successo grazie alla comunicazione online. Allo stesso tempo, in questa fase del suo sviluppo, l'azienda ha offerto i programmi di formazione certificati, attualmente le specialità più richieste e altamente pagate e lo team attivamente coinvolto. Allora, puoi immaginare che prima del 2014 le persone non stavano investendo letteralmente in nulla. C'era solo un'idea e il grande desinteressato lavoro del creatore di questo progetto. Ora ti presentiamo Skyworld. E allora, questa azienda ci prospetta vita, Luca e salute. Adesso ti presento l'opportunità di offerte commerciali di questa azienda. Il progetto di cui parleremo oggi è di proprietà del signor Anatoly Luneschi. Con una storia di sviluppo 40 anni. La proprietà intellettuale del suo progetto è stimato 400 miliardi di dollari ed è dopo 40 anni di sviluppo che dal 2014 è diventata una grande azienda, un progetto che oggi ha migliori offerte del mercato. Lo stesso signor Anatoly Luneschi ha già 73 anni ed è sicuro al 1000% che tutto questo si realiserà nel corso della sua vita. Lui non ha rifiutato di realizzare questo progetto quando la sua vita era in pericolo. E alcuni che vedono prima volta hanno tante domande di che cosa è Skyway in realtà. Vi rispondo che Skyway è un trasporto come sul rutaio ad alta resistenza. Il progetto presenta una serie di vantaggi che distinguono Skyway di altri modi di trasporto. La struttura della linea Sky si trova su sopporti che occupano poco spazio sulla terra e non influenzano l'ecosistema. I vantaggi idrici e foreste rimancono intrate. Il trasporto Sky è controllato da un'autopilota. ciò riduce il numero di precedenti per potenziaci all'incidente. l'aerodinamica di trasporto Sky consente di raggiungere velocità fino a 500 km e anche la costruzione della struttura della linea Sky richiede meno denaro rispetto alla costruzione di qualsiasi altro trasporto. e quindi con tutti i condizioni climatici è approvato e certificato anche quindi può essere molto utile per qualsiasi condizioni climatici. la sua bellezza anche è molto bella. allora con la sua opportunità e bellezza e comodità non è solo bisogno è anche necessario per la nostra vita. allora tu potresti chiedermi ma perché non usiamo un'auto ibrida? quando carichi l'auto ibrida in pratica devi collegarla a una centrale elettrica che funziona di nuovo o a carbone o in un'altra materia e prima e quindi crea danni alla natura. noi stiamo partecipando a questo progetto perché vogliamo salvaguardare il destino della natura. i costi operativi sono 20-25 volte interiori rispetto al trasporto su strada cioè esistenze. e la produzione di energia è al minimo perché genera energia più che sufficiente e non dipende alla centrale. e anche c'è uno stabilimento un centro di innovazione un centro di innovazione Charlesa e Minsk dove lavorano 3.000 ingegneri istruttori e esperti che gestiscono ogni dettaglio del futuro trasporto con la massima precisione e qui voglio dirvi che ogni dettaglio ha 100 anni di garanzia con grande gioia ti consiglio entrare nella nostra azienda quindi più informazioni che sentivo e trovavo durante 2-3 anni che sto qui io per me stava sempre è stato sempre più credibile quindi c'è un prodotto reale e vi consiglio avere maggiori informazioni allora quando devi costruire costruzione di sky allora assumi 20-25 volte meno funibie perché noi non abbiamo bisogno di raddrizzare il paesaggio versare acqua e rompere le rocce per costruire questa strada sono necessari solo soliti supporti con un binario fune per viaggiare ai trasporti e fornire servizi di consegna con trasporto più veloce allora esistono 3 tipi di passagorde ridici, semiridici e elastici ognuno dei quali ha il proprio tipo di binario e quando c'è un allora sappiamo che quando un'auto accelera ad alta velocità si deve fare i conti con il flusso d'aria in arrivo e si chiama resistenza aerodinamica il nostro sky transport è mila volte più facile da gestire e grazie allo scafo affilato e in grado di raggiungere velocità di 500 km per un'ora in pratica utilizzando questo trasporto possiamo portare le persone pure di emergenza più rapidamente e ottenere interventi chirurgici urgenti in tempo con un rapido trasferimento alla clinica necessaria e cosa sarebbe così comoda e utile per oggi guardando queste malattie purtroppo che esistono per oggi però ripresento quanti tipi di trasporto abbiamo allora un trasporto unibus ad alta velocità può raggiungere 500 km e la sua produttività è fino a 500.000 passeggeri al giorno trasporto urbano con la velocità 150 km con la sua produttività può spostare fino a 50.000 persone al giorno anche un altro trasporto ultimo che ha un altro trasporto unicard urbano con la sua velocità 150 km con la sua velocità 150 km con la sua velocità 150 km può spostare 50.000 persone al giorno E anche i Unicont, questi sono i merci che possono spostare 200.000 tonnellate di prodotti per costruire le case e tanti servizi che sono necessari per la nostra vita. Anche i Unibus monorotaia con la velocità 150 km può raggiungere la sua produttività fino a 50.000 tonnellate al giorno. Ancora i merci. Anche il transport ha molta capacità per i tanti servizi. Possiamo avere anche servizio di corriere più velocemente e anche senza sosta o avere tutta la comodità della vita. Allora sappiamo che le strade sono consegnate da auto che con la loro emissione possono causare inquinamento e molte malattie. Purtroppo ci sono anche paesi che dovranno mettere in atto leggi sulla sicurezza. La mancanza di sicurezza è la causa di molti incidenti. Negli anni 70 esistevano questi problemi di inquinamento e sicurezza. e nel 1905 signor Ado Iunezki, scienziato, inventore proteggista di navi volanti, presentò il suo primo articolo scientifico dopo cinque anni di ricerca sull'atmosfera è che in cinque anni l'atmosfera è stata molto inquinata e continuare così per decenni avrebbe esposto la popolazione a sconosciute malattie e purtroppo adesso questa situazione già esiste. La circolazione ha causato da decenni problemi strada sovravolata sulla tema di sicurezza e di spedio di energia colossale. E questo succede perché per i propri interessi, i propri obiettivi, l'umanità ha danneggiato la natura e i paesaggi. Stiamo battendo foreste, paesaggi, allora presciugiamo i fiumi pancini idrici, distruggendo montagne e sciogliere e quindi la natura risponde con i disastri naturali. e i nostri sacrifici dopo crescono come al solito. Abbiamo iniziato negli anni 70 il progetto di questo trasporto così innovativo dopo 43 anni esiste per risolvere l'alta velocità e l'ecologia. Questo è il motivo di Sky Transport e il trasporto necessario più richiesto nella storia dell'esistenza umana. C'è anche un sito, unesky.engineer, dove è possibile trovare tutti i certificazioni. Allora, questi sono i tipi di transport che esistevano già due anni fa dopo che tutti sono certificati e realizzati. Ecco, Tecnopark è la Bela Russia in Emirati Arabi Uniti e che riflette 40 anni di duro lavoro del signor nato Junetsky al quale ha dedicato in maggior parte della sua vita e del suo lavoro. Ogni partner della società Skyward Community sta in una posizione redditizia. Quindi qui è possibile firmare un successore e entrare aggiuntive dal programma di partnership. Di qui parleremo un incontro specializzato per gli interessati. Allora, il vantaggio di Fasino nella nostra azienda sta nel fatto che c'è una forte unione delle persone con gli obiettivi e valutati. I rappresentanti di oltre 200 paesi sono attivamente coinvolti in questo progetto per ottenere un reale benessere finanziario che oggi è già diventato un processo irreversibile e di cui parlano i progetti già realizzati, pianificati e firmati. Abbiamo realizzato i progetti anche in alcuni posti, progetti ecologici, dove con il servizio di Sky Transport è possibile salvaguardare questo pianeta, sistemare i giardini, ritornare la sua bellezza di questo pianeta e le persone possono vivere in una vita sistemata. e vi consiglio entrare nella questa azienda, quindi ci prospetto di fare il saluto e vi consiglio, quindi quello che vedo durante tre anni mi fa credere che sono insieme con una persona che nasce una volta tra mille anni per salvare la nostra pianeta e la nostra umana. Si può fare tutto che prima sembra incredibile, però insieme noi tutti possiamo fare tante belle cose e cambiare la nostra vita a maggior parte. Allora, quando entri nella nostra azienda, il tuo profitto è i ratei dividenti, guadagni dal programma di partner, l'ereditarietà, disposizione sulla restituzione del denaro, diventi comproprietario delle tecnologie e anche partecipa a un progetto ambientale ampio e globale e passi alla storia come fino al troppo e crei i capitali per una vita spensierata. Hai la possibilità di viaggiare per raggiungere Dubai, Belarussia, eccetera, eccetera, e non solo. Allora, ha l'attestato di formazione in specialità impegnative e altamente retribuite con i certificati che ne puoi lavorare e dopo con i posti altamente pagate. Il valore nominale del tuo acquisto è diretamente proporzionale al numero delle tue reazioni e tutto ti porta una grande gioia quando vedi tutto con i tuoi occhi e anche lo sviluppo tecnologico che è visibile e già è disponibile per tutta la umanità. Allora, come vi ho detto già, c'è anche un sito, uneschi.engineer, dove puoi vedere un elenco completo di una serie di permessi e certificati che riflette 40 anni di duro lavoro del signor Anatoio Uneschi e a quale già ha dedicato la maggior parte della sua vita e il suo lavoro. Allora, personalmente, pensare su questi tutti i profitti e i miei diritti che anche possiamo trovare sulla nostra pagina quando stai registrando, ti apre la tua pagina dove trovi tutti i tuoi diritti rispetto con la legge europea. Allora, personalmente per me è stata una grande gioia rendermi conto di aver comprato 120.000 dollari per tre soli 1.000 dollari, cosa che non avrei potuto fare nella vita reale. Cosa dovrei fare per guadagnare questa cifra? Sarebbe incredibile. E in quanti anni potrei risparmiare così tanto? È per me che l'azienda Skyward Community è diventata il senso e il supporto della mia vita. Allora, quando io ho cominciato da zero, mi credevo così tanto che sarebbe possibile svilupparsi e cambiare la vita in realtà. Però, per adesso, quando vi consiglio, quindi ho visto il mio risultato, che la mia vita è cambiata tanto su 360.000 dollari è diventata migliore. Allora, la cosa più importante per te è che ci sia un prodotto reale che puoi visitare, toccare e sentire la sua velocità e comodità per te stesso. e non ha bisogno di essere paragonato ad un'altra azienda. Questo è l'unico progetto ecologico e globale che ci offre molte opportunità interessanti. L'Eco-Techno Park è stato realizzato ed è operativo in Belarussia, nelle città di Marina Gorka e negli Emirati Arabi Uniti, in particolare nella città di Sharjah, nel centro di innovazione intorno all'Università Americana, dove è già possibile visitarli. Allora, all'Università Americana degli Emirati Arabi, c'è una lista di prova del nostro trasporto che opera per 15 km intorno all'Università. Questa distanza comprende 21 stazioni. Ogni visitatore può sperimentare il conforto di questo trasporto e viaggiare con l'auto in linea stringa del futuro. E allora, personalmente, per me e per i molti partner, è diventato ancora più credibile che l'Italia sia tra i 200 paesi partner. E allora, adesso vi dico da dove troviamo i nostri benefici. Allora, il 32% della quota del valore delle tecnologie viene messo in vendita sotto forma di azioni e con gli investimenti pubblici si effettua l'acquisizione di azioni e diventare i comproprietari di tecnologie innovative. La società Skyward Community è stata registrata in Inglaterra, su isole Tergini, come società europea nel 2014. Allora, pertanto, i diritti del volco partner sono scritti e tutelati della formativa europea. Inoltre, l'ordine di partecipazione è inviato dal registro pubblico inglese all'indirizzo indicato. Ecco qui quel documento. Dopo la registrazione della società, le sue fasi di suo sviluppo sono state suddivise in 15 fasi. Ad oggi abbiamo già completato 14esima fase del suo sviluppo e siamo prossimi alla quindicessima fase dopo che stiamo aspettando maturazione dei dividenti. Allora, già quest'anno, la società Skyward Community è stata introdotta con il nome cambiato tecnologia delle stringhe UNESCO, che si dice così UNESCO Street Technology. Allora, i pacchetti azionari partono da 250 dollari e arrivano fino a 150.000 dollari a seconda dall'interesse degli azionisti. Un rappresentante di qualsiasi classe sociale può investire e anche è possibile usufruire di rame perne a tasto zero sul pacchetto azionario. Non perdere il tempo per ottenere maggiori informazioni e fornisci subito il tuo invitato. Il link di registrazione è o fissa un incontro per darti risposte più specifiche per te nella direzione che ti interessa. Allora, sempre sulla nostra pagina abbiamo anche le offerte specializzate che puoi utilizzare per i tuoi bambini, studenti e sempre guardare i tuoi interessi come ti vanno più bene. Ecco, e dopo il completamento la qualsiasi fase si sta già spostando sul mercato mondiale e ci stiamo avvicinando alla maturazione dei dividenti. E' possibile usufruire i rame interni a tasto zero sul pacchetto azionario. Allora, è più interessante, sì? E' credibile che il trasporto esiste davvero. che è possibile visitare e toccare. Allora, si adatta anche a tutte le condizioni climatiche. Il suo corpo è resistente alla radiazione e converte l'energia solare e luce del giorno in elettricità e può letteralmente servirci senza sosta e muoversi ad alta velocità. e ciò che è più importante per te alla fine c'è ancora la possibilità di unirti a questo progetto ambientale più globale di un unico e senza precedere e cambiare la tua vita in meglio. Sky è un trasporto unico che salverà la vita a milioni di persone centinaia di migliaia di ettari di paesaggi paesaggi miliardi di animali e uccelli che salverà a ciascuno e l'azienda e tiene conto anche dei nostri diritti secondo la legislazione europea e cotiamo tutti i diritti del comproprietario. questo è un grande conforto per noi queste regole sono disponibili sulla nostra pagina e dopo completare registrazione e verificazione tu potrai fare i tuoi investimenti e invece verificazione questo non è possibile però puoi correre a trovare maggiori informazioni che ti hanno condivido. Allora il produttore e creatore il signor Antonio Uneschi che presenta ha sempre una relazione annuale del lavoro svolto fine di ogni anno la nostra azienda ha una disposizione del denaro anche quindi improvvisamente di lasciare l'azienda ti offre di aggiungere più 4% determinate condizioni e restituire i suoi soldi come mutuatario e allora questo significa che tuttavia se qualcuno dovesse lasciare l'azienda con questa richiesta però questo precedente non è stato finora rilevato e ancora queste condizioni per tutti allora funzionano benissimo e ora nessuna persona non ha perso un centesimo è tutto programmato e realizzato e sistemato così bene che noi nessuno non abbiamo ancora nessuni problemi allora funziona il trasporto funziona tramite pannelli solari il suo corpo può convertire l'energia solare in elettricità lavorando praticamente senza sosta spostiamoci un po' allora questo allora i termini di trasporto allora passeggeri può trasportare il numero di 24 ore rispetto ad altri trasporti esistenti i termini di inquinamento siamo a zero sostanze nocive e quindi nessun tano per la natura i termini di incidenti è il più sicuro perché evita fisicamente tutti i incidenti allora ricordiamo che oggi abbiamo tre tipi di veicoli che necessitano di consumo trasporto marittimo terrestre e aereo però il trasporto sky può convivere insieme con gli altri e invece dare fastidio può leggerare le strade e alla fine avremo le strade senza traffico allora allora c'è una cosa intelligente materiali ecologicamente puliti automatizzati e dotati di energia solare questo è il progetto soddisfatto tutte le aspettative del signor Anto Iuniecki che ha avuto l'idea di costruire città lineali dove servirà il trasporto sky i nostri bisogni quotidiani e la natura saranno preservati allora questa è la nostra sopravvivenza come l'immagine mostra chiaramente dove è stato realizzato questo progetto pilota quanto è pulita atmosfera che già abbiamo visto allora noi stiamo partecipando a questo progetto perché è innovativo e ad alta velocità è sicuro facilmente e soprattutto è ecologico scusate allora il consiglio io se sostengo tecnologia skyway sperando in un futuro migliore e soprattutto i nostri allora profitti sono quando la nostra azienda allora il tuo profitto è vi dico di nuovo allora i dati i dividenti guadagni dal programma di partner l'ereditarietà a disposizione sulla restituzione del denaro diventi con proprietario di tecnologie e partecipa a programma da un progetto ambientale ampio e globale per salvare il nostro pianeta blu allora passi alla storia come fino al troppo i capitali per una vita spissierata allora hai la possibilità di viaggiare per raggiungere Dubai e non solo Dubai attestato di formazione specialità impegnative altamente attribuite e anche che è più importante di tutto il valore nominale del tuo acquisto è direttamente proporzionale al numero delle tue azioni e allora questo era la società Unesky Street Technology con le sue offerte e opportunità e io sono stato attratto dalla qualifica di questa società Caterina da Napoli e grazie per l'attenzione ciao ciao ciao